Si è tenuto oggi a Roma, martedì 3 giugno, il convegno di commento e presentazione dei dati Eurobarometro organizzato dall'Intergruppo parlamentare sullo sport. Quali sono i passi indietro che ognuno di noi probabilmente deve fare per poterne conquistare tutti in avanti? Gli enti di promozione sportiva stanno consegnando, stanno lavorando, lo consegneranno a breve un nuovo regolamento per quanto riguarda la loro azione e il loro riconoscimento dove tutto è spostato non più sull'autocertificazione ma sulla richiesta al CONI di essere certificati debili della trasparenza, capire la consistenza delle proprie attività e via dicendo. Chiedendo a tutti e quindi in quel caso soprattutto al CONI, il chi fa che cosa? C'è un tema della rappresentanza all'interno degli organismi del Comitato Olimpico, c'è un tema della rappresentanza. Tutte le federazioni sportive sono riconosciute all'interno del Consiglio nazionale, gli enti di promozione sportiva hanno una parte della loro rappresentanza. Il CONI è sostanzialmente uno di questi, avendo delega e avendo sopra di sé un ministro per la vigilanza e via dicendo. Credo che noi faremmo un errore a tagliarci fuori da elementi di responsabilità comunque collettive. Credo che sia oggi più che mai, proprio nella fase in cui un governo sta improntando una fase molto legata al tema delle riforme, dare uno sguardo complessivo a quelle riforme, a quell'idea di politica pubblica, a un'idea di riposizionamento anche dello stesso welfare italiano, soprattutto a tutti. Questa classifica, vedete, ho poi colorato i paesi, il professor Borro dopo vi parlerà delle tipologie di welfare che sono uno degli elementi discriminanti per la pratica della partecipazione sportiva, vedete le varie tipologie di welfare, quelle dei paesi scandinavi, quelle dei paesi dell'Europa centrale, dei paesi con il welfare familiare dei meridionali e poi c'è questa galassia che non si riesce a spiegare, dei paesi che vengono dall'ex blocco comunista che sono a tutti i livelli, cioè stanno ai livelli peggiori, ma c'è la Slovenia per esempio che sta molto in alto in questa graduatoria. Da questo punto di vista, come dire, il campanello d'allarme, insomma, è più di un campanello, è un vero e proprio allarme. Ma ascoltiamo adesso... ...le politiche sociali che tematizzano oppure no lo sport come diritto del cittadino hanno di gran lunga più influenza dei livelli di sviluppo o dei sistemi di regolazione politica del sistema sportivo. Ci sarebbe poi da soffermarci sulle differenze, le anomalie del caso italiano rispetto a quello europeo che ho fatto in maniera un po' rapsolica, però mi fermo qui perché non voglio augurare la nostra pazienza. Cosa decide lo Stato a proposito dello sport italiano? È importante? Non è importante? Questa è la scelta principale. Poi a Valle possiamo anche discutere degli argomenti organizzativi. Col 7% del PIL sicuramente un modello più federale, saremo tutti più contenti, penso al Presidente Luisp, sarebbe più contento di triplicare tre volte e mezzo da un giorno all'altro il proprio contributo che riceve di soldi pubblici. Saremo tutti contenti e con quello potremmo organizzare la perfezione del nostro sistema. Per costruire un testo unico della materia sportiva. E qui c'è il lavoro che io davvero chiedo anche a tutti noi di sostenere. Perché questo può essere il punto che apre un impegno di tipo nuovo da parte del governo, quindi dello Stato. Bisogna vedere cosa ci vogliamo mettere in questa teoria. Adesso nelle leggi ci sono 6 o 7 punti importanti, ma sicuramente non esaustivi. Cioè il giorno che il governo davvero volesse costruire un testo unico è la grande occasione che avrebbe preferito ridisegnare il suo ruolo. Quindi non possiamo dargli con la delga compiti limitati.